Il messaggio del suo primo romanzo, Porci con le ali, un vero e proprio manifesto degli anni 70 che incoraggia a vivere liberamente la propria sessualità, sembra essere quanto mai attuale. Cambiano solo gli interlocutori. Lidia Ravera, scrittrice e giornalista, nel suo ultimo libro, Il terzo tempo, parla a quanti hanno superato un terzo della vita ma hanno ancora davanti ben 25 anni, come sottolinea lei stessa. Un'esortazione a vivere la vecchiaia come un periodo pieno di possibilità, con spirito battagliero e rivoluzionario, così come lo è lei, figlia del 68 e di quei cambiamenti epocali, soprattutto per le donne, la cui eco si riverbera ancora oggi sull'onda di una rivoluzione che, 50 anni dopo, non è ancora terminata. Io mi sto divertendo moltissimo, vorrei riuscire a comunicare alle mie coetane, ma anche a quelle più piccole, perché non vivono nel terrore. Non si diventa dei mostri, tranquille, non si cade in un buco nero, resti chi sei. Invecchiare bene è possibile, bisogna essere attente, allegre e molto combattive, perché il mondo ci vuole male. Ma questo, per le neo vecchiette ex sessantottine, è una sfida fantastica. Ecco, ci sono un po' di pregiudizi. Si pensa spesso che il modo di invecchiare di una donna sia diverso da quello di un uomo. Una donna che invecchia diventa inutilizzabile dal punto di vista della procreazione. Sono i pregiudizi che vanno abbattuti. Noi continuiamo a dover avere 23 anni per tutta la vita, vestite possibilmente da oggetti del desiderio. Quando non siamo più oggetti del desiderio ci è consentito essere madri. L'ingiustizia del mondo nei confronti delle donne in età fertile è sintetizzato da una domanda. Vuoi fare figli o vuoi fare carriera? Noi questa domanda la vogliamo rispedire al mittente. Nessuno chiederebbe mai a un uomo di scegliere tra gli affetti più profondi e la realizzazione di sé. Perché noi dobbiamo essere messe davanti a questa alternativa diabolica? Infatti questo romanzo che è uscito da un anno e che continua a vendere come i panini, lo sto presentando dappertutto perché per me è un gesto politico. Rivolto alle donne giovani che pretendano di poter permettersi di essere donne e di essere in carriera. Rivolto alle mie coetanee perché la smettano di fare finta di essere giovani, scimmiottare le figlie, liftarsi, li possucchiarsi. Non c'è niente di male a invecchiare, è un dato di fatto. Sei posizionato sulla mappa della vita sui due terzi. Grazie a tutti.